La lettura breve di questa sera ci ha inserito dentro uno spazio, quello di ogni celebrazione liturgica, nella quale Dio si offre a tutti indistintamente. Ci diceva appunto che giudei e greci, quindi tutti, tutti noi potremmo dire, siamo destinatari privilegiati, unici, di uno sguardo di amore di Dio. Nessuno è avvantaggiato, Dio si offre con tutto se stesso a ciascuno, a tutti noi. All'inizio del nostro cammino quaresimale mi sembra necessario partire da una corretta posizione perché il nostro percorso penitenziale non diventi un cammino ascetico, centrato su di noi, su quello che vogliamo dare al Signore, decidendo noi modalità e contenuti. Un cammino ascetico certamente utile, che essenzializza la nostra vita, ma non è detto che sia ciò che Dio cerca da noi in questo tempo. Il centro del cammino quaresimale non è tuffarci innanzitutto nell'abisso del nostro nulla, della nostra miseria, ma immettere di più lo sguardo nella immensa realtà di Dio, tentare di cogliere qualcosa di più del suo amore, della sua persona. La colletta della prima domenica di quaresima, appena vissuta, ci ricordava che, a base di una degna condotta di vita che ci auguriamo scaturisca dal cammino quaresimale, c'è un primo e fondamentale impegno, la conoscenza del mistero di Cristo. E se dovessimo descrivere con una parola l'essenza di questo mistero di Cristo, dovremmo usare una parola, la parola dono. La prima e fondamentale caratteristica di Cristo è che in Lui Dio ha desiderato donarsi totalmente e definitivamente a noi. Dio, cioè, noi lo conosciamo dalla sua parola e dalla storia della salvezza, perennemente nell'atto di donare se stesso, per stabilire comunione con noi, per darci la sua vita, per offrirci la sua salvezza. Gesù lo dice in modo inequivocabile nel Vangelo di Giovanni. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chi crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Anche la liturgia di oggi, dove nel Vangelo ci veniva presentato il segno di Giona, è davvero l'immagine di questo Dio così aperto, così benevolo, così disponibile ad offrire se stesso a tutti quelli che si volgono a Lui. Quindi il mistero di Cristo è tutto essenzialmente racchiuso in un dono di amore di Dio per l'uomo. La condivisione della nostra carne, del nostro vivere quotidiano da parte di Dio, nelle sue fatiche e addirittura nelle sue tentazioni, che abbiamo visto domenica scorsa, è l'atto estremo, decisivo di Dio che si dona a noi. In Gesù Cristo, di noi, Dio conosce tutto, ha condiviso tutto, anche la tentazione a cui siamo sottoposti quotidianamente. Ma nei Vangeli, da parte di Gesù, quando Egli parla di se stesso, non usa mai questo termine, sono un dono del Padre. Nel linguaggio della liturgia, come nel linguaggio dei Vangeli da parte di Gesù, soprattutto nella liturgia e nelle preghiere eucaristiche, questo dono di Dio assume una sfumatura particolare, perché si utilizza un termine col quale dobbiamo prendere familiarità in questa Quaresima. Lo ritroveremo spesso nel Trido Pasquale, nella Settimana Santa. Gesù, nel Vangelo, dice di se stesso che Egli sarà consegnato. Così si esprime proprio nel Vangelo di Marco, al capitolo 9. Mentre erano sulla strada verso Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro, ed essi erano sgomenti, e con loro che lo seguivano impauriti. Prese in parte i dodici e disse loro, ecco, noi saliamo a Gerusalemme, e il figlio dell'uomo sarà consegnato ai summi sacerdoti e agli iscrivi, che lo consegneranno ai pagani. Gesù dice di sé che Egli sarà consegnato. Lo dice per ben tre volte, in tutti gli annunzi della passione. E questi annunzi, dove si parla di una consegna, ci sono sempre delle situazioni particolari. Nel Vangelo di Marco abbiamo ascoltato questo annunzio e collegato a una situazione di incomprensione, di rifiuto, dei discepoli, discepoli che vanno a Gerusalemme con lui e sono impauriti, smarriti, sgomenti, quasi intuissero che quell'andare a Gerusalemme non sarà un andare innocuo per loro. Come anche un rifiuto dei capi del popolo, del sinedio, sacerdoti, dei pagani, tutti impauriti, attratti rabbiosamente impauriti da Gesù e dalla sua stessa statura umana, anche se sottomessa e silenziosa. Eppure a tutti Gesù era stato donato e donato per amore, donato per essere accolto, donato per essere ascoltato, perché dall'ascolto di Gesù e della sua parola dipendeva avere una vita piena. Quando il dono di amore di Dio passa nelle mani degli uomini, questo dono si trasforma in una consegna di mano in mano, quasi che il figlio di Dio, il dono del padre, sia un regalo che tutti rifiutano e che si passano di mano in mano. Questo rifiuto, fratelli, non è solo un rifiuto simbolico, ma è collegato ad un annientamento, ad un dare sofferenza, fino ad imporre un patibolo su cui il dono di Dio subisce la morte, la morte più infame possibile. dovremmo seriamente chiederci cosa si nasconde dietro questo rifiuto di un dono. Non bastava dire a Dio, a Gesù, no grazie, non ci interessa, facciamo volentieri a meno. Gesù stesso pone l'accento sulla necessità di un accogliere da parte di Sua la sofferenza della croce. Anzi, egli è disposto volontariamente ad accoglierla. Dirà nel Vangelo di Giovanni «Nessuno me la toglie la vita, ma la offro da me stesso». Questa sofferenza di Gesù appare il modo concreto con il quale il dono di amore di Dio si cala nella storia degli uomini, di allora come di oggi. Nell'annunzio della passione, dove Gesù si definisce come un dono consegnato di mano in mano, Gesù attribuisce a sé stesso un titolo «Il figlio dell'uomo sarà consegnato». Vedete, questo termine «figlio dell'uomo» senza entrarci nei meandri di letture esegetiche sta evocando sicuramente un'idea di potenza e di forza, così come ce lo descrive il profeta Daniele, Dio che sconfigge il male con la sua forza, con la sua potenza. Eppure, questo termine, questa idea di potenza non si presenta sotto l'immagine di un uomo forte, di un uomo che ha dei doni particolari, umani. Si presenta come un uomo scandalosamente vero, un uomo totalmente come noi che è nato in una famiglia povera e umile, un uomo che ha lavorato, trent'anni ha vissuto in un luogo sperduto della Galilea, che viene a pretendere di essere lui la salvezza dell'uomo e della storia. Una pretesa assurda. cioè che quel figlio dell'uomo immagine del Dio potente che libera dal male si presenti sotto la forma di una carne umana, del servo sofferente di Isaia, di colui che assume tutta la debolezza dell'uomo su di sé e che non solo lui la presenti per sé ma che si presenti lui come il modello di una nuova umanità, un'umanità che non è potente, che non è debole, che non è ricca, che non è forte, che non domina, che non è padrona, ma un'umanità debole, servitrice, povera, misericordiosa, afflitta eppure beata, che non si fa giustizia da sé ma che si affida totalmente all'amore e alla giustizia di Dio. che si pone totalmente nelle sue mani. Beh, questo modello di umanità proprio era totalmente inaccettabile. È qui che si cela il motivo del rifiuto. Non solo perché un Dio così non ci piace ma perché ci offre un modello di umanità che non ci piace. Questo modello di umanità non poteva essere accolto dal cuore indurito degli uomini. Forse le stesse comunità a cui il Vangelo si rivolge erano scandalizzate da un Gesù che aveva insegnato come unico potere l'amore. L'amore spinto fino al dono di sé, al perdono dei nemici, fino al sacrificio di sé stessi, per quelli che magari ti stanno dando la morte, perché credi in Lui, perché hai fede nel Gesù di Nazareth, in Lui che sulla croce ha pregato e ha scusato quelli che lo stavano ammazzando. Un Gesù così forse anche noi lo rifiutiamo con il nostro cuore indurito, perché tutti noi sfuggiamo continuamente all'angoscia di sentirci ultimi e deboli. tutti noi cerchiamo appoggi potenti, soprattutto un Dio potente come protettore e amico. Che farmene di un Dio dall'apparenza non tanto diversa dalla mia? Che mi promette di camminare con me nel dolore e non di togliermelo? Che mi chiede di portare la croce con Lui ma non me la toglie di dosso? Che mi domanda di essere il più piccolo, il più servo se voglio essere il primo di tutti? Questo modello di umanità nuova secondo Dio e secondo Gesù l'hanno rifiutata gli uomini da sempre e questo rifiuto dobbiamo dirlo con serietà, con verità appartiene forse anche alla quotidianità della nostra vita. Forse può accadere anche a noi di passarci Gesù di mano in mano consegnato uno all'altro come un regalo di cui non vediamo l'ora di sbarazzarci solo per sfuggire alla paura di sentirci deboli e indifesi davanti agli uomini come quei discepoli che erano smarriti e sgomenti nell'andare verso Gerusalemme con Gesù. la quaresima come immersione in questo volto di Dio che Gesù ci ha rivelato il volto del figlio dell'uomo sofferente per amore non può ridursi fratelli a dirci chi è Dio e come è Dio la quaresima come ogni tempo liturgico è portare la vita di Dio nella mia e nella nostra vita è lo specchio di cosa dovrebbe essere sempre la nostra vita se vivo e accetto la penitenza quaresimale è per vincere gli ostacoli che mi separano da lui dal suo modello di uomo nuovo che è la mia vanagloria il mio orgoglio la mia superbia il mio peccato in ultima analisi mi impediscono di accogliere in pieno la grazia del nostro Dio ci assista perché possiamo provare in questo tempo a non consegnare Gesù ad altri per liberarcene perché non diciamo a noi stessi spetta ad un altro iniziare ad amare spetta ad un altro iniziare a perdonare a scusarsi a mettersi al servizio e all'ultimo posto stavolta devo stare a guardare perché ho dato troppo ho fatto troppo perché proviamo a gettarci in prima persona nella corsa della sequela di Gesù grazie a tutti grazie a tutti